Giorgia Meloni potrebbe cambiare idea sull'Ucraina Sì, 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 Giorgia Meloni potrebbe cambiare idea sull'Ucraina E lo dice, un potentissimo generale lo dice Il generale Marco Bertolini Io questa potente notizia la leggo su Libero E questa potente notizia me la metto come link nel riassunto di questo video Il titolo dell'articolo che vi metto come link nel riassunto di questo video è Ucraina, virgola, generale Bertolini, due punti, aperte le virgolette Quando Meloni può cambiare idea, chiuse le virgolette Sì, sì, Marco Bertolini è un generale E conosce bene la situazione internazionale E in generale parla del collocamento atlantico di Giorgia Meloni Però dice che se la situazione si fa peggiore Peggiore in Ucraina Giorgia Meloni potrebbe cambiare idea Potrebbe cambiare idea Ma secondo il generale potrebbe cambiare qualcosa Se l'emergenza si facesse ancora più mordace Due punti, aperte le virgolette Se l'Italia si trovasse dentro una crisi sociale di proporzioni enormi E in buona parte imputabile alla guerra Spiega il generale Bertolini Allora Giorgia Meloni ne potrebbe tenere conto Allora Giorgia Meloni ne potrebbe tenere conto Ne potrebbe tenere conto Capitò? Ne potrebbe tenere conto Visto che Fratelli d'Italia È un partito che spesso sa interpretare il sentire profondo dei cittadini Chiuse le virgolette e butto Bella questa espressione Visto che Fratelli d'Italia è un partito Che spesso sa interpretare il sentire profondo dei cittadini Perché spesso, generale? Dovevi dire sempre Che sempre sa interpretare il sentire profondo dei cittadini Perché dici spesso? Beh, poi conclusione Dunque, occhi puntati sulle elezioni di mid-term negli Stati Uniti Solo allora L'atteggiamento della Nato potrebbe cambiare Capito? Sì, perché Ci sono le elezioni Presto le elezioni di mid-term negli Stati Uniti d'America E il presidente Joe Biden potrebbe essere messo con le spalle al muro Con le spalle al muro Con le spalle al muro Con le spalle al muro, capito? Conclusione dell'articolo Occhi dunque puntati sulle elezioni di mid-term negli Stati Uniti Solo allora l'atteggiamento della Nato potrebbe cambiare Potrebbe che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Che Giorgia Meloni Si è legata Si è legata al carro Al carro della Nato Dell'alleanza atlantica Perché prima delle elezioni politiche Giorgia Meloni con l'aereo è volata negli Stati Uniti d'America Per assicurare gli Stati Uniti d'America Del suo atlantismo Della sua vicinanza alla Nato L'ha fatto un paio di mesi prima delle elezioni Perché per andare a Palazzo Chigi E in Italia devi stare Devi avere la benedizione della Nato Capito? Della Nato E ce l'ha avuta Giorgia Meloni Ce l'ha avuta la benedizione della Nato Però c'è di mezzo il metano Il metano siberiano C'è di mezzo il metano siberiano Per cui il generale dice Che se la situazione si aggrava Se negli Stati Uniti d'America E si fa difficile La posizione del presidente Joe Biden Si fa difficile E allora potrebbero cambiare le cose Per cui Giorgia Meloni Giorgia Meloni che è vicina al sentire Del popolo sovrano Potrebbe sganciarsi un po' dall'alleanza atlantica Avvicinarsi Tornare ad avvicinarsi alla federazione russa Al metano siberiano Capito la situazione? Capito qual è la situazione? Sì sì ma io all'ottimo generale All'ottimo generale Bertolini Vorrei dire che Si deve tenere presente Soprattutto ciò che fa lo Stato di Israele Generale Eccolo qua lo Stato di Israele A stedra di David Anche Giorgia Meloni dovrebbe tenere presente Ciò che fa lo Stato di Israele Il quale Stato di Israele Non ha mai mandato Non manda e mai manderà armi all'Ucraina Ecco cosa dovrebbe fare Giorgia Meloni Perché lo Stato di Israele Non sta mica a guardare ciò che avviene Negli Stati Uniti di America Lo Stato di Israele non attende Mica alle elezioni negli Stati Uniti di America Sin dall'inizio della guerra in Ucraina Lo Stato di Israele Non ha mandato armi all'Ucraina E mai le manderà Capito generale? Capito Giorgia Meloni? E poi dobbiamo 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 Fermarci sulle parole Del nostro grande Papa Papa Francesco Il quale a tutto il mondo Ha detto Che Vladimir Putin Ha invaso l'Ucraina Perché la Nato Continuava ad andare ad abbaiare Sotto le finestre Di Vladimir Putin Ok generale Bertolini Ok diciamolo a Giorgia Meloni Diciamolo Che lo Stato di Israele Non sta mica a guardare le elezioni Negli Stati Uniti di America Lo Stato di Israele Non ha mai mandato Non manda E mai manderà armi all'Ucraina Ok generale A te generale A Giorgia Meloni E a tutti voi Tanti cari saluti Da Serafino Massoni Ok Ok Ok